12 febbraio 1804. Muore ottantenne a Königsberg, nella Prussia orientale, il filosofo Immanuel Kant. Nel 1785 pubblica La fondazione della metafisica dei costumi, la prima elaborazione della sua filosofia morale. Nell'opera affronta già la differenza fra un imperativo ipotetico, la cui efficacia è condizionata da una serie di circostanze, e un imperativo categorico, che invece comanda incondizionatamente. Kant anticipa così temi più largamente trattati nella Critica della ragion pratica del 1787.